Dopo quella dello zafferano DOP dell'Aquila, nel ricco meccato arabo arriveranno anche altre forniture di prodotti abruzzesi di qualità come tartufo, olio, arrosticini, caffè, formaggi, gelateria, pasta, carne, confetture dolci tipici e persino acqua minerale. L'agri-food sostenibile, in particolare gli arrosticini per i quali è stata chiesta l'esclusiva, hanno fatto breccia nella considerazione dei 29 buyer della grande distribuzione della ricettività dell'Arabia Saudita in tour nei giorni scorsi in Abruzzo, su iniziativa della regione per visitare le bellezze storico-culturali e ambientali, ma anche e soprattutto per incontrare una trentina di imprenditori abruzzesi. Una delegazione nutrita e soprattutto autorevole perché il governo saudita, insieme ai suoi rappresentanti del mondo della distribuzione, della grande e piccola distribuzione, i rappresentanti soprattutto degli operatori economici, quindi ci sono oggi rappresentanti degli hotel, delle catene di hotel e soprattutto anche addirittura dei cuochi, quindi dei cuochi sauditi e quindi tutti gli operatori economici che girano, ruotano attorno dell'agri-food, penso sia oggi una giornata importantissima. È una giornata che noi valutiamo nel solco delle attività già iniziate in occasione dell'Expo Universale, dove l'azienda regionale delle attività produttive è stata delegata dal Consiglio e dalla Giunta della Regione Abruzzo per rappresentare la Regione all'interno dell'Expo Universale 2020. Io ritengo che questa giornata sia importante prima di tutto perché da un punto di vista di rendimento dell'attività pubblica si certifica che non siamo andati lì a scaldare la sedia, siamo andati lì ad aprire i mercati internazionali, lo abbiamo fatto con la forza di tutta la struttura di Arap, del Consiglio di Amministrazione, io dico il grandissimo impegno da parte del Direttore Generale Antonio Morgante e di tutti i nostri, delle donne e degli uomini di Arap. Oggi diciamo è un momento di partenza, non è sicuramente un momento di arrivo, il momento nel quale il mercato saudita, che è uno dei mercati emergenti per i prossimi vent'anni, protagonista all'Expo, diventa in questo momento protagonista nella nazione che ha più biodiversità al mondo e nella Regione che ha più biodiversità in Italia, che è l'Abruzzo. Oggi è arrivato il momento di portare a combimento un'attività appunto iniziata a Dubai, di far conoscere i nostri prodotti e di non fare chiacchiere, di fare i fatti, parlare con gli importatori, far conoscere i prodotti e far allargare i mercati dalle imprese abruzzesi, con prodotti che io ritengo siano inferiori a nessuno, se parliamo di zafferano, parliamo di tartufo, parliamo di oli, parliamo di confetture e parliamo di trasformazione agricola. È arrivato il momento, perché Arap ci ha creduto, ci ha creduto la Regione Abruzzo, di, voglio dire, iniziare poi a capitalizzare l'attività svolta durante l'Expo di Dubai. Al termine della visita sono state stipulate le prime intese per le esportazioni di eccellenze abruzzesi nel ricco mercato arabo, una fase che potrebbe portare a rapporti strutturati con un aumento sensibile della produzione e del fatturato per le imprese abruzzesi. Oggi noi abbiamo fatto un piccolo incontro oggi con gli operatori sauditi e abbiamo visto insomma il livello della delegazione che è oggi presente in Abruzzo, un livello che ci porta ben a sperare su quelli che possono essere le opportunità che potranno nascere da questo incontro. Abbiamo puntato su questo settore agroalimentare perché abbiamo fatto comprendere che l'Abruzzo è una regione veramente di biodiversità, forse è una delle regioni che ha maggiori biodiversità rispetto alle altre regioni italiane e quindi questa offerta di questi prodotti naturali che hanno un impatto sulla salute molto positivo, oltre che ad avere grande gusto, io penso che potrà avere un successo presso i mercati stranieri. Per Arap è stato un successo che segue le positive missioni all'Expo di Dubai e di Bruxelles, nel corso delle quali sono stati avviati contatti e relazioni sulla base di un preciso piano di internazionalizzazione stilato proprio da Arap. Una missione assolutamente importante perché è fatta di player importanti che rappresentano la grande distribuzione, che rappresentano le grandi catene hoteliere, quindi c'è molto spazio e sono anche già rimasti sorpresi dalla qualità dei nostri prodotti che soltanto a pranzo abbiamo minimamente testato, noi ci siamo occupati di food, ci siamo occupati di industrie più o meno pesanti, ci siamo occupati di idrogeno e di nuove energie, quindi noi cerchiamo di avere un panorama a 360 gradi per avere più risultati possibili. Hanno detto loro che c'è il programma Saudita 2030 che punta a far diventare il paese, quel paese, un paese all'avanguardia, tecnologicamente avanzato e vi posso testimoniare che stanno facendo delle grandissime cose, quindi in questo ci sarà, in questo spazio di grande crescita ci dovrà essere spazio anche per l'Abruzzo. Dopo essere stati protagonisti di incontri con le imprese abruzzesi, visite guidate in aziende e siti produttivi della nostra regione con eventi mirati a favorire l'incontro della domanda con l'offerta, i buyer operanti nel settore degli hypermarket, dei grandi alberghi, degli autogrill e delle catene di ristoranti e dell'intrattenimento arabi si sono detti entusiasti dell'Abruzzo. Noi siamo partiti con questo progetto innovativo di internazionalizzazione, abbiamo preso e si è avviato il tutto con l'occasione di Expo Dubai 2020 e da lì poi progetto anche su Bruxelles, l'internazionalizzazione a 360 gradi. Si comincia a raccogliere i primi risultati, il fatto che oggi sono presenti qui oltre 20 tra buyer, catene di alberghi, ristoranti e tutto un sistema dell'agri-food saudita è proprio la testimonianza del lavoro fatto che è un lavoro importante e innovativo per la nostra regione. Tutto il sistema può crescere se noi siamo capaci di andare oltre i nostri mercati interni, di andare oltre quella che è la classica attività che si fa. In questi mercati c'è una grande attenzione e curiosità rispetto a quello che è il valore dell'Abruzzo. Una visita che regala grandi prospettive alla nostra regione, come ha spiegato il rappresentante dei buyer arabi presenti nella nostra regione. Noi siamo venuti in Abruzzo per vedere se c'è un'altra opportunità di aprire differenti settori alimentare, comprando da questa regione, perché noi non abbiamo mai comprato niente da Abruzzo, solo che noi abbiamo preso prodotti da Puglia, Emilia-Romagna, da Toscana, da molte aeree, ma non da questa regione in Abruzzo. Sappiamo che ci sono i migliori prodotti qui anche in Abruzzo, come l'olio è una cosa grandissima, il zafferano è una cosa grandissima, i tartuffi sono anche cose grandissime e poi vediamo altre opportunità. Non è solo che noi vogliamo prendere, no, vogliamo prendere i piccoli prodotti per farli crescere al nostro mercato. Grazie Grazie